... Davvero formidabile Peter Wilde che con 28 secondi e 43 supera se stesso Il premio Freizenent Garak ha avuto davvero un grande protagonista nel cavaliere che ha conquistato le prime due posizioni in sella ai suoi due cavalli impegnati in questa prova la vittoria dunque in sella a Lipton dell'OTEN ottenuta da Peter Wilde per gli Stagi Uniti d'America Grazie 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 Peter Wilde dunque vince in sella a Lipton dell'OTEN il premio Coppa Sfumante Freizenent riceve i premi per la sua vittoria dalle mani del dottor Francesco Remondini del gruppo Biscaldi che consegna il piatto in argento la coccarda la tradizionale per questo concorso Polo Fred Perry la bottiglia Magnum Freizenent e la confezione di dolci della ditta Fiore tutti premi conquistati da Peter Wilde in sella a Lipton dell'OTEN Cavaliere che è stato davvero il grande protagonista di questa prova dal momento che ha ottenuto anche la seconda posizione il secondo posto non solo la vittoria in sella a Mobili Lil Maid Peter Wilde secondo posto e quindi doppia premiazione per lui questa frazione è quella unica a a una un' 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti